Dopo i disagi per gli utenti della circunvesuviana per la soppressione della tratta Napolito rannunziata a Poggio Marino, il presidente De Gregorio scrive ai sindaci dei comuni interessati. EAB è stata costretta di vedere gli orari a fronte di un'improvvisa e anomala protesta del capo stazione, con i quali un paio di anni fa è stato firmato un accordo che ha portato loro a un aumento di inquadramento e quindi retributivo, ed ogni anno manifestano un'improvvisa indisponibilità al lavoro straordinario che facevano regolarmente da anni. Attenzione, lavoro straordinario che si azzererà o ridurrà a livelli fisiologici entro sei mesi al completamento dei concorsi interni in atto. Il rifiuto del lavoro straordinario è motivato da una richiesta di ulteriore aumento di inquadramento retributivo insostenibile per l'azienda. De Gregorio ha spiegato la situazione in una lettera inviata ai sindaci di Scafati e Poggio Marino. In questo modo il responsabile dell'azienda di trasporti prova a giustificare la decisione di limitare a torre annunziata i treni che da Napoli dovevano raggiungere Poggio Marino, decisione assunta improvvisamente sabato 6 novembre. Tecnicamente, prosegue il presidente di EAP, è stato quindi necessario procedere ad una revisione e contrazione delle corse su diverse linee, sempre sostituita in ogni caso da servizi su gomma, sperando di far rientrare la protesta nel più breve tempo possibile e ripristinando il precedente orario. In ogni caso, è scritto ancora nella missiva aggiunta ai sindaci di Scafati e Poggio Marino, si evidenzia che per Scafati e Pompei Santuario, oltre al servizio automobilistico, sono rimasti nove treni navette che arrivano a torre annunziata, dove c'è una rottura di carico, quindi per proseguire verso Napoli i viaggiatori devono scendere ed utilizzare un altro treno che porta a Napoli. Se viceversa, da Napoli si vuole andare a Pompei Santuario Scafati, i viaggiatori scendono a torre annunziata, dove c'è un treno navetta in coincidenza che porta sino a Poggio Marino, con fermate intermedie a Bosco Reale, Pompei Santuario e Scafati. Siamo consapevoli del disagio provocato al nostro malgrado agli utenti e speriamo di poter ripristinare il servizio ordinario quanto prima.